Che partita ragazzi, che divertimento, che gioco, che qualità di gioco espressa, meraviglia, veramente, un dominio totale, abbiamo veramente imbarazzato la Lazio, sembrava una squadra di serie C forse, sembrava un'amichevole estiva che tu fai contro una squadra di serie C o serie D, tanto per fare una sgambata e tu trovi, cioè fai azioni ogni minuto, Praticamente un'azione al minuto, arrivi sempre sulla porta, gli altri devono cercare di prenderne il meno possibile, sembrava veramente una partita del genere, veramente l'Inter perfetta, attitudine perfetta, grinta, aggressività, pressione alta, ma anche tecnicamente, chiaramente vi ha fatto vedere la nostra qualità, ma poi anche il gioco, proprio tatticamente abbiamo stiantato la Lazio E tra l'altro a volte con grande pazienza, con grande mentalità, anche, perché c'è stato anche un momento in cui loro comunque nel primo tempo avevano fiato e si mettevano anche abbastanza bene nello schermare il gioco dall'inizio, ma eravamo talmente superiori, talmente bravi, talmente freddi nelle decisioni, nella visione, eccetera, che non ce n'era. Per quanto si mettessero bene, noi facciamo 50 passaggi di fila e alla fine facciamo gol, veramente stupefacente ragazzi, bellissimo, bellissimo, e mi dispiace solo una cosa, a parte il risultato che 3-0 doveva essere 8-0, Ma l'unica cosa che mi dispiace è che i cronisti, soprattutto nel primo tempo, non abbiano elogiato e con entusiasmo non tanto l'Inter, ma la qualità di gioco espressa che si stava vedendo a livello di pubblico Il pubblico poteva vedere delle azioni, delle riuscite, delle situazioni veramente belle esteticamente, cioè un calcio europeo, un calcio bello da vedere, invece questa cosa non è minimamente stata sottolineata È stata sottolineata con estrema timidezza, quasi tristezza, minchia, ma visto che è una coppa anche, diciamo che comunque giochiamo all'estero, che magari viene vista anche da altre nazioni, possiamo sottolineare una volta, cioè partecipare attivamente, anche parlo degli opinionisti, telecronisti, a dire Uh, che bella uscita, che bella azione, guarda che bel, cioè, non so, chiedo io, sono io fuori di testa o, non so, veramente, io ho visto una bella qualità di gioco, si dice sempre che il calcio italiano fa una merda e via Quelle volte che viene fuori bene, che c'è un bel dominio, un bel possesso palle, una bella costruzione, che il pressing c'è, fatto bene anche dalla Lazio, però l'altra squadra viene fuori bene Non si può dire, cioè, io ho goduto, vedendo certe costruzioni, ho goduto, vedendo certe trame, certe triangolazioni, certi spostamenti, certa fluidità del centrocampo dell'Inter, ma anche con i difensori e col regista che viene dentro e il centrale che si sposta L'altro centrale che diventa terzino, l'altra mezzala che viene al centro e la punta che viene, e c'è tutta una costruzione per cui poi si arriva veramente anche a rette Dopo 40 passaggi, se lo fanno in Premier, tiki-taka, Guardiola e via, se lo fanno in Italia, tutti in silenzio, oh porca troia, scusatemi ma sfogo mio sull'opinionismo mediocre del calcio italiano Vabbè, dicevo, ragazzi, tornando andate alla partita, seriamente, poi live su Twitch verso le 11 vi aspetto e mi raccomando Allora, cosa posso dire ragazzi? Beh, intanto voglio celebrare il primo gol, che è stato bellissimo, il gol di Turam, ma viene dopo 40 passaggi di seguito, senza interruzioni Senza interruzioni, con un tocco finale poi di Di Marco, volutissimo, meraviglioso, stellare C'è la Noglu, poi, sentenza, va di fatto un po' a chiudere la partita, e Frattesi, che ovviamente subentra, e come subentrante Frattesi è sempre tanta roba Perché la sua qualità maggiore, qual è? Quella di giocare un po' a gioco rotto, no? Per grinta e gamba, perché è lì che lui è forte Il gioco rotto, gli inserimenti, nel crederci, è un incursore che ci crede sempre, e c'è il contrapiede e lui si fionda, no? Con tutta l'energia, la fiamma che ha in corpo Poi sappiamo che magari deve migliorare su altri aspetti, ma negli ultimi 20 minuti conta molto questo, e lui lì va veramente a mattare, no? Va veramente a, non so come dire, a sentenziare, e sono contento anche per il suo gol Però, ragazzi, benissimo l'Inter, dicevo, dai primi minuti, grande crescione alta, pressing molto molto alto, e proprio corale, fatto molto bene Si vede proprio che l'Inter è cresciuta anche a livello di mentalità, in Coppa comunque, ma anche in campionato quest'anno Però, quando c'è la partita singola, la partita secca, l'Inter si trasforma un po' e non sbaglia niente Fa la famosa partita perfetta, riesce a superarsi, riesce a rendere al 100% e proprio sembra, è proprio un insieme C'è una squadra che va proprio insieme, è un insieme di singoli che però si uniscono ed è un corpo unico E lo vedi anche, a parte dal gioco, dal pressing, da come viene effettuato il pressing, da come ci scambiamo le posizioni Questa roba è bellissima Fraseggio, tra l'altro, molto molto veloce E però abbiamo, l'unica nota dolente è che abbiamo sprecato una marea di gol, ragazzi Cioè, Darnian, Barella, Turam e Lautaro, in 4 hanno sbagliato 8 gol 8 gol Poi mettiamoci anche uno di Di Marco, uno di Pavard, un altro di... Ecco, c'è veramente un macello, un macello Questa è l'unica nota negativa che poi sembra strano perché abbiamo visto 3-0, no? Uno dice, beh, sta calmo, dai, goditele e via Sapete che io sono un po' perfezionista e dico, sì, io ne volevo 6 di gol almeno 7 di gol Ma non perché voglio ammazzare le vassali, non è quello, assolutamente, no Anzi, massimo rispetto per la Lazio Però è proprio per il fatto che quelle volte, cioè, non è che ogni partita hai mille occasioni E tante volte noi magari le sprechiamo e poi magari rischi anche, no? Metti che la Lazio viene, trova un episodio e se le mette un po' in partita Tu hai fatto un miliardo di occasioni, potevi chiuderla Addirittura al primo tempo E se fossimo stati 3-4-0 al primo tempo che non avremmo rubato nulla Era assolutamente lecitissimo essere 4-0 a fine primo tempo E 8-0 alla fine del secondo Comunque, 4-0 a fine primo tempo, ragazzi, poteva fare veramente triplo cambio Togliendo subito i titolari e facendoli riposare, per esempio, contro il Napoli Quindi, no, io sono sempre puntiglioso, sto perfezionista, sto attento a ogni cosa Perché voglio sempre il massimo, ecco, quindi questa cosa un po' la dico Comunque, ragazzi, dicevo, calcio spettacolo Uscita dal basso Triangolazioni meravigliose Veramente Ecco Posso dire solo Anche un'altra cosa che io ho notato Che voglio però sapere la vostra Che Magari avete notato anche voi questa cosa qua Il campo Dello stadio in cui abbiamo giocato in Arabia Era Cioè Sembra cazzata, però non è cazzata L'erba era tagliata molto molto sottile E avete avuto anche voi l'impressione che il pallone andasse molto più velocemente Senza rimbalzi strani E anche i giocatori giocassero in maniera più Corressero in maniera più fluida Ecco Questo è un altro tema Cioè nel senso Anche questa cosa dà spettacolarità Onestamente a me è piaciuto vedere questa partita qua Anche per questo dettaglio Che secondo me è un po' influenza In Premier Sappiamo tutti quanto sono belli i campi della Premier Eccetera eccetera Quindi Voglio dire anche questa cosa sia un po' un monito per la nostra Serie A Cioè io vorrei vedere L'Inter Come anche la Lazio Fiorentina Squadra che giocano molto con il processo palla Vorrei vederle giocare in campi belli così Anche in Italia Adesso annetto che oggi abbiamo giocato con la Lazio E abbiamo dominati Però Veramente mi sembra che le partite siano molto più belle da giocare E da vedere soprattutto E per squadre che vogliono giocare un calcio di qualità Giocando la palla Veramente sempre dal basso Costruendo e via Anche questo dettaglio fa la differenza Quindi Non voglio dire che l'Inter stasera Ha fatto benissimo Un po' stesso palla Meraviglioso Per il campo Perché il campo c'è anche per gli avversari Quindi è chiaro che Tatticamente abbiamo dominato E anche a livello mentale Abbiamo dominato Noi la partita A prescindere dal campo Però secondo me anche questo Un po' aiuta A vedere Una Un'estetica Bella Del gioco Vabbè Ve la butto lì E' come spunto finale Della partita Poi domani Ovviamente andiamo con le pagelle E adesso Vi aspetto in live Su Twitch Ragazzi vi saluto Intanto Forza Inter Dai che siamo in finale Mi raccomando Andiamo a Andiamo in finale Con tutta la garra possibile Immaginabile Perché visto che siamo lì Cioè le finali vanno vinte Le finali non vanno Partecipate Vanno vinte E quindi mi raccomando Testa adesso a Napoli Che Napoli sicuramente Ci avrà guardato stasera Quindi bisogna veramente Anche trovare Una motivazione Ancora in più Per giocare contro di loro Perché bisogna metterla anche Molto di più Sulla Sulla cattiveria E Non sbagliare gol Perché contro Napoli Non puoi sbagliare Tutta sta roba Che hai fatto stasera Quindi Spero che i gol Che non abbiamo fatto stasera Ce li siamo tenuti Per la finale Perché altrimenti Un po' di Di secatura Mi viene Io Vedere che sbagli 5-6 gol Facci davanti a porta Mi viene su Veramente un po' il veleno Ma più che altro Perché non dai giustizia A tutto quello che hai fatto Tu Che te lo meriti Hai fatto tanta roba Bella Caspita Il gol non è altro Che Il coronamento Di un lavoro Che hai fatto Questo Vabbè ragazzi Vi saluto Forza Inter A prestissimo Live Doani Pagelle Mi raccomando Forza Inter Sempre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti